Buonasera a tutti lettori di Commodities Trading, benvenuti in questo nuovo appuntamento video venerdì 1 dicembre 2017, argomento di oggi sarà una particolare dell'ultima revisione agli accordi sui tagli alla produzione messi in campo da parte di OPEC e produttori alleati andremo ad esaminare nel dettaglio la situazione di Nigeria e Libia, due nazioni che sino ad ora erano state escluse in toto dall'aderire, dagli obblighi di adesione ai limiti sulla produzione e che invece in questa nuova revisione sono state a tutti gli effetti incluse per modo di dire direi e qui andiamo ad esaminare anche il perché questo video è stato realizzato nell'editoriale di questa mattina infatti abbiamo parlato, andremo poi a vedere proprio il singolo paragrafo abbiamo parlato del cap produttivo di 2,8 milioni di barili giornalieri complessivi imposti a Nigeria e Libia e mi sono permesso di essere lievemente critico sull'efficacia sull'effettiva funzionalità di questo cap produttivo e vedremo tra poco perché e ho scelto appunto di muovere questa critica all'operato di OPEC ed alleati russi in primis andiamo prima ad esaminare quelle che sono le due nazioni molto molto rapidamente allora partiamo dalla Nigeria, entrambe le nazioni sono state, erano state in precedenza escluse dall'aderire agli accordi sulla produzione a causa della delicata situazione geopolitica interna che tradotto significa la presenza di numerosi scontri per quanto concerne Nigeria qui abbiamo la nostra piantina mi piace fare anche questo video perché andiamo a vedere un po' più nel dettaglio quello di cui solitamente parliamo ma magari poche righe buttate lì che magari stimolano effettivamente la curiosità di alcuni di voi lettori però probabilmente non si è mai scesi troppo nel dettaglio andando ad esaminare anche le singole aree geografiche parlando di Nigeria sappiamo che abbiamo una recrudescenza saltuaria occasionale degli scontri tra le forze central governo e i cosiddetti Niger Delta Avengers che sono ribelli che operano appunto nelle aree del Delta l'area del Delta è questa praticamente evidenziata in arancione e qui abbiamo anche alcuni terminal di rilievo terminal che ovviamente convogliano Greg ad esempio uno di quelli che nominiamo più sovente e che è sovente esposto soggetto a forza maggiore proprio a causa di questi scontri è il Forcados e il Forcados in termina si trova proprio in quest'area ragione per cui quando chiaramente avvengono questi scontri quando viene applicata la forza maggiore sulle esportazioni e di conseguenza questo va a influenzare anche la produzione a livello interno di questo grado di greggio chiaramente abbiamo delle ripercussioni complessive sulla produzione totale della nazione lo stesso vale per gli altri gradi che sono soggetti a provvedimenti di questo tipo uno ad esempio è il Bonny Light piuttosto che il Kai Boy sono tutti gradi che sovente vengono interessati da questo provvedimento a causa di questi innalzamenti della tensione questo diciamo per quanto concerne la Nigeria senza approfondire l'argomento geopolitico con maggiore precisione però rimanendo chiaramente concentrandoci diciamo su quello che è il settore petrolifero andiamo avanti vediamo la stessa cosa per la Libia diciamo ecco qua la Libia forse ci resta lievemente più facile più semplice perché comunque la maggior parte dei disordini che avvengono in Libia chiaramente in Libia abbiamo detto prima abbiamo una situazione analoga a quella che abbiamo visto per la Nigeria solitamente solitamente i disordini più grandi vengono a interessare appunto il giacimento di Sharara che è questo che vi sto indicando in questo momento e il vicinissimo è il film chiaramente di qui si vanno interrompere le esportazioni perché questa pipeline questa in verde che vedete che porta che punta dritta verso Tripoli e verso il terminal di Zauia viene interrotta di conseguenza le esportazioni non possono procedere al pari della produzione quando gli scontri vanno ad interessare direttamente le stazioni di pompaggio nel bacino sappiamo che in passato anche comunque i terminal di Sider e Arslanov sono stati interessati da questo tipo di inconvenienti però diciamo che principalmente si intensificano gli scontri intorno a Sharara perlomeno questo è quello che vediamo negli ultimi eventi e quando andiamo ad interessare questo field non abbiamo interruzioni di poco conto ma si parla direttamente di una produzione che mi ricordo in un'occasione se non erro due mesi fa è stata in una produzione complessiva e diciamo che è stata letteralmente dimenzata quindi questo cosa ci porta? ci porta a dire che comunque l'OPEC ha messo un cap produttivo molto elevato su due nazioni che difficilmente riusciranno a mantenere una certa stabilità nella produzione però prima di procedere in questa attivazione andiamo a vedere qual era il passaggio incriminato e lo diciamo subito eccoci qua come abbiamo visto nel report pubblicato ieri sera l'OPEC non ha stupito i mercati estendendo gli accordi fino al termine del 2018 alla fine del meeting è stato reso noto che anche Nigeria e Libia fanno ora parte della strategia del gruppo ma anche qui ci sarebbe da dire facciamo i classici conti della serva questi li facciamo dopo e poi qua ecco il passaggio più critico a mio avviso questa ma questo ovviamente è un parere personale dichiarare un cap complessivo di 2,8 milioni di barili giornaliere è la classica non notizia la faccia di tutti quegli analisti che per mesi hanno parlato di un meeting che avrebbe cambiato le carte in tavola eccetera eccetera che fondamentalmente lascia tutto come prima per meglio comprendere questo dato andiamo ad esaminare l'ultimo report mensile diffuso dall'OPEC qui ho estratto il cosiddetto flipbook che è disponibile per tutti sul sito ufficiale OPEC eccoci qua produzione interna all'OPEC andiamo a prenderci i dati delle due nazioni vediamo che in base alle fonti secondarie la Libia nel mese di ottobre 17 ha prodotto 962.000 barili giornaliari di greggio perdono mi sono impappinato 920.000 a settembre 17 871.000 ad agosto 2017 vediamo la Nigeria che ha 1,8 milioni di barili giornalieri ad agosto e poi si scende via via 1,792 e 1,738 milioni di barili giornalieri nel mese di ottobre 2017 questo lo ricordo le fonti secondarie ricordate che comunque il report OPEC comprende sia le comunicazioni dirette dei paesi produttori che le rilevazioni effettuate tramite fonti secondarie andiamo a vedere invece le comunicazioni dirette quando disponibili la Libia non fornisce questo tipo di dato vediamo invece la Nigeria che ci restituisce dei dati nettamente inferiori partendo da agosto 2017 abbiamo 1,630 milioni di barili giornaliere agosto 2017 si scende a 1,583 e per poi risalire a 1,663 milioni di barili giornaliere prodotti nel mese di ottobre 17 in questi termini questo è un po' quello che è il succo del discorso mettere un cap produttivo di 2,8 milioni di barili giornalieri è esattamente lasciare le cose come stanno e dare un contentino a quei produttori che richiedevano l'inclusione di queste due nazioni stiamo parlando del conto di Libia e Nigeria perché la loro produzione complessiva difficilmente arriverà a violare questo cap produttivo perché comunque non ci sono al momento le condizioni adatte per avere questo tipo di movimento in termini di produzione ancor più che l'OPEC ha lasciato veramente ampi margini perché non ha imposto dei limiti alla singola nazione ma ha semplicemente fatto un tetto massimo di produzione complessivo quindi Libia più Nigeria quindi questo assolutamente in questo momento non ci dice nulla come non ci dicono nulla le parole che sono state pronunciate da Khaled al-Fali il ministro dell'energia saudita che sostiene che l'applicazione di questo provvedimento consentirà al gruppo i produttori alleati di rimanere più tranquilli nel corso del 2018 in relazione alla produzione di queste due nazioni però anche lui non ha diciamo la verità non si è dilungato più di tanto nel commentare perché comunque è palese che questo provvedimento lascia come si suol dire il tempo che trova ecco qua diciamo un po' la spiegazione un po' più approfondita forse spero e spero più chiara magari di quanto è stato pubblicato nell'editoriale di questa mattina rimaniamo la redazione rimane sempre a disposizione per eventuali domande ricordo che le fonti tramite le quali proponiamo gli articoli sono sempre assolutamente certificate quello che stiamo guardando è il documento ufficiale OPEC e anche le notizie che sono state proposte in relazione al meeting del 30 novembre ad esempio erano di fonte o Reuters o Bloomberg quindi sono sicuramente certificate e chiaramente attendibili rimaniamo come detto in precedenza a disposizione per eventuali chiarimenti e che appunto volesse se desiderate approfondire un argomento piuttosto che un altro fatecelo sapere e provvederemo a approfondire appunto l'argomento da voi eventualmente richiesto come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione buon trading a tutti anche se questa volta non abbiamo parlato di grafici e quindi ripieghiamo su un buon fine settimana a tutti voi a tutti